Il Palio piace alla città? Secondo me sì, nelle serate clou. Magari c'è da rivedere qualcosa in altre serate, però in serate come questa la piazza è piena e la gente si diverte. Quali sono gli aspetti negativi e quali magari invece quelli positivi da valorizzare ancora meglio? Gli aspetti negativi, se si può dire un aspetto negativo, c'è bisogno di più partecipazione della gente che ancora non si è avvicinata alle porte. Gli aspetti positivi, come vediamo, la città risponde sempre bene quando si propone qualcosa. Quando invece viene lasciata a se stessa poi ci ritroviamo senza nessuno in giro e non abbiamo più niente.